buon pomeriggio a tutti oggi il video sarà un po particolare non parleremo di binocoli non parleremo di birdwatching o di astronomia vi vorrei presentare un metodo per riprendere la natura a lunghissima distanza oggi tenterò di riprendere dei dettagli sul rifugio capanna margherita che si trova in linea d'aria a circa 72 chilometri dalla mia postazione io questa mattina avrete riconosciuto la zona sono presso il monte sete termini ringrazio il proprietario di questa bellissima area panoramica che è il signor maurizio liborio che mi dà sempre il permesso per fare insomma le mie riprese video l'osservazione a lunga distanza ovviamente non si fa per mero esercizio estetico non avrete mai la qualità ottica di ad esempio una ripresa con un teleobiettivo da 500 600 mm su soggetti oggetti ravvicinati tuttavia volevo farvi vedere le possibilità che ci sono attualmente per riprendere a lunghezze focali superiore ai 6 7 mila millimetri di focale questa mattina sono venuto a fare una ripresa video oggi infatti c'è la parte successiva dove stiamo facendo vedere il montaggio dopo vi spiegherò meglio da che cosa è composto questo kit perché per poter riprendere a lunghissima distanza è necessario che ci sia poca turbolenza atmosferica e quindi le ore più ideali sono quelle di prima mattinata o a volte la sera il crepuscolo ho optato per la mattina in quanto il rifugio a capanna margherita al crepuscolo praticamente è ostacolato dal tramonto del sole questo è il tsna di A3 che è un grosso adattatore per il digiscoping un supporto che consente di bilanciare molto bene i pesi e per questa ripresa video e fotografica che faremo oggi è essenziale lo inserisco sul gimbal GH2 della Benro e adesso vado a prendere il modulo teleobiettivo telecowa telephoto lens più la macchina fotografica questa mattina come vedrete poi dalle immagini ho effettuato la ripresa in realtà con una mirrorless però siccome stiamo utilizzando adesso la mirrorless per la ripresa video vedrete il montaggio con una reflex full frame adesso inizio a installare il cova telephoto lens ve lo faccio vedere questo è il paraluce estraibile ottica alla fluorite con anche degli elementi xd per arrivare a 8000 di focale ho dovuto aggiungere un moltiplicatore cova da 1,6x il modulo prisma e l'oculare della cova 25x60 diciamo che questo kit questo treno ottico sommato alla capacità di crop 2x delle mirrorless micro 4 terzi mi consentono di arrivare a una lunghezza focale di 8000 passo al montaggio io per mia brevità faccio così allora innanzitutto inserisco all'interno della slitta il teleobiettivo lo lascio un attimo qua e adesso vado a prendere la macchina fotografica so come prima cosa devo allineare il lo spotting scope alla macchina fotografica quindi sposto all'esterno badando comunque tenere ben fisso la gimbal della berro e vado a inserire la reflex in quest'altra adattatore ora è abbastanza semplice l'allineamento devo sollevare questo e nel contempo vado a portare sull'asse ottico anche lo spotting ecco qua il tutto viene agganciato stringo le manopole e adesso sono praticamente pronto per la ripresa a lunga distanza altre due considerazioni questa mattina ho utilizzato come vi ho già anticipato una mirrorless quindi lavoravo 8.000 di focale in questo caso saremmo a 4.000 di focale questo perché il formato micro 4 terzi è un fattore crop pari a 2x adesso vediamo un attimo insieme quanto costa questo kit per le osservazioni e le riprese a lunghissima distanza parliamo un po di prezzi vi do i prezzi medi perché come sapete poi da negoziante a negoziante sul web ci possono essere delle differenze il modulo cova telephoto lens da 500 mm f5.6 con ottica la florite costa in media 2.500 euro come vedete ha una messa a fuoco demoltiplicata ed esiste anche la possibilità di chiudere il diaframmi da 5.6 fino a f11 poi abbiamo la unità prisma che è questa l'unità prisma costa in media circa 750 euro ho dovuto inserire per avere questa potenza di fuoco chiamiamola così il moltiplicatore di ingrandimento sempre di cova da 1.6 per che costa all'incirca 350 euro poi abbiamo l'oculare te 11 25 per 60 che si trova in media 700 euro e l'adattatore pa 7 con il vetro neutro all'interno che costa all'incirca 200 euro il supporto che ho montato per primo tsn di a3 costa circa 300 euro e poi dipende dal montaggio che volete effettuare come supporto insomma io oggi ho utilizzato una gimbal aspettate che la giro ve la faccio vedere è una testa molto utilizzata ad esempio nella caccia fotografica questa è la gh2 ci sono anche di più costose e di più robuste queste regge all'incirca 20 chilogrammi e costa in media 250 euro poi visto che il percorso da compiere non era eccessivo oggi ho utilizzato un robusto treppiede in legno della berlebach che anch'esso regge 20 chilogrammi tuttavia avremmo potuto con un costo superiore comunque acquistare o utilizzare un treppiede in carbonio della siri adesso ve lo faccio vedere il treppiede della berlebach costa in media 600 euro mentre purtroppo il treppiede della siri è molto costoso può costare anche oltre gli 800 euro diciamo così che in linea di massima tutta questa attrezzatura può costare totalmente anche col treppiede e con senza esclusa la scusate la macchina fotografica circa 6.300 euro poi dipenderà molto anche dal prezzo della macchina fotografica che utilizzerete poi un treppiede in carbonio della siri e la serie l 403 regge circa 20 chilogrammi pesa poco più di 2 kg r4203 l su binomania trovate la recensione che ho scritto qualche anno fa questa è una fotografia che mostra le distanze in gioco il dettaglio più distante è stato rifugio capanna margherita a 72 chilometri ho provato poi a riprendere dei dettagli sul monte zeda la croce poi la cappella della marona e sono comunque situati a circa 20 chilometri per poi fotografare fare una ripresa video della struttura sanitaria sul pian cavallo che ha 13 chilometri un'altra sfida è stata quella di provare a leggere a fotografare l'orologio di due chiese situate a 11 chilometri la chiesa di ogebio e quella di triarego ho fatto anche una ripresa alla zona di monte viasco dove c'è un'altra chiesa mi pare di aver ripreso anche un'abitazione e poi per finire ho tentato di riprendere una figura umana circa 5 chilometri vedrete che adesso nel proseguo vi farò vedere i risultati ottenuti con un teleobiettivo canon 400 mm f5 6 quindi già un'ottima ottica per fare fotografie lunga distanza e le differenze con il mio kit da 8000 di focale iniziamo con una classica foto sono tutti i jpeg originali non elaborati con una canon 6d e il canon 400 questa invece è la foto che mi ha fatto molto tribolare è stata scattata 8000 di focale un duecentesimo 1600 iso anche in questo caso lo scatto originale non elaborato vedete che comunque a 72 chilometri distanza si percepiscono alcuni dettagli della capanna margherita questa fotografia è ben ripetibile e soprattutto migliorabile avrei potuto fare di meglio ad esempio utilizzando un telescopio astronomico ma quello che mi premeva era di consentire mostrare lettori le potenzialità di una ripresa così lunga distanza attraverso un sistema completamente trasportabile grazie alla collaborazione di fabio bergamino noto astrofilo di milano siamo poi riusciti a estrapolare alcuni fotogrammi di un breve filmato per sommarli riducendo quindi il rumore aumentando un po la definizione ovviamente anche questo risultato è perfettibile è stato fatto tutto velocemente per motivi di tempo e comunque ringrazio ancora fabio per la sua grande disponibilità vedete in ogni caso che a 72 chilometri se ci fossero delle persone al di fuori della capanna si comunque riuscirebbero a percepire la loro sagoma adesso faccio scorrere rapidamente alcune immagini questa ottenuta con il 400 sulla chiesa di ogebbio come vedete non si vedono particolari dettagli qui invece si legge addirittura l'orario le 9 e un quarto tramite la ripresa 8000 millimetri questa è la chiesetta di trarego mi pare a 12 chilometri di distanza in questo caso a 8000 si vede alle 9 e 20 l'orario sul campanile ho poi tentato di fare una piccola composizione in basso vedete un particolare dell'edificio sul pian cavallo ripreso 8000 millimetri di focale sopra la classica foto con teleobiettivo se ci fossero state delle persone alla finestra sareste stati in grado di vederle questa immagine è stata scattata con il 400 millimetri nel cerchietto rosso ci sono due signori che stanno lavorando nel loro terreno che ho ripreso 8000 di focale quindi dopo vi potrete ben accorgere delle differenze io adesso termino qui questa disamina passo a far scorrere i video sempre originali non elaborati giusto per darvi un'idea di quello che si può vedere e fotografare e riprendere a lunghissima distanza con questo kit grazie a tutti grazie a tutti per ottenere questo genere di riprese fotografiche essenziale il kit il kit è anche non essere così costoso potreste utilizzare della strumentazione dal costo inferiore quello che mi premeva personalmente era di riuscire a fornire una strumentazione ottica anche ad alcuni appassionati che me l'hanno chiesto che fosse facilmente trasportabile che consentisse di superare gli 8000 millimetri di focale potevamo raggiungere risultati migliori senz'altro il mio esperimento è ben superabile perché basta ad esempio utilizzare uno strumento con un'ottica più grande quindi aumentando il diametro dell'ottica avreste aumentato il il potere risolutivo il problema di questo genere di riprese è la turbolenza atmosferica che livella tutto quindi è stato molto difficile utilizzare i fotogrammi più belli che sono riuscito a ottenere perché la turbolenza atmosferica 8000 di focale vi assicuro che è molto avvertibile e oltretutto un altro problema che si ha durante questo genere di riprese fotografiche è l'assestamento delle vibrazioni quindi purtroppo bisogna assolutamente acquistare dei supporti decisamente costosi e affidabili da considerare è anche la presenza possibile di vento calcolate addirittura che è talmente elevata la difficoltà nella messa a fuoco 8000 di focale che mi bastava soltanto spostarmi di due passi che seppur avessi un robusto treppiede in legno comunque potevo percepire le vibrazioni osservando dal monitor della macchina fotografica attualmente ve l'ho già detto non so quante volte ho utilizzato una reflex perché stiamo utilizzando la mirrorless per le riprese video io per questo genere di osservazioni barra fotografie comunque predilico le mirrorless non solo per il fattore crop 2x ma anche per la leggerezza del sistema cari amici binomania io termino qui questo video un po originale spero che vi sia piaciuto e spero su più che altro che io vi abbia incuriosito riguardo la ripresa a lunghissima distanza questo come vedete è un kit molto compatto anche trasportabile che consente di riprendere in questo caso con la full frame a 4000 mm di focale mentre con le mirrorless micro 4 terzi addirittura a 8000 mm di focale quindi 8 metri di focale distanze lunghissime come avrete visto spero nel video seppur ci fosse la turbolenza a inficiare la maggior parte dei dettagli è incredibile come si riescono a percepire dei dettagli comunque abbastanza flebili a oltre 70 km di distanza posso citare i particolari con precisione però vi posso dire questo l'anno scorso sono stato contattato da un corpo militare diciamo così che mi ha chiesto informazioni per l'acquisizione di immagini a lunghissima distanza attraverso un sistema fotografico del genere sono riuscite a terminare un'indagine e anche restare dei criminali grazie a una ripresa effettuata non a 70 km di distanza comunque effettuata circa un chilometro e mezzo di distanza dove in questo caso addirittura la riconoscibilità dei particolari del viso di un soggetto sono molto 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 più netti io termino qui vi saluto se ancora non l'avete fatto magari iscrivetevi al canale youtube di binomania ci saranno argomenti sempre più diversificati dall'anno prossimo parleremo anche di fotografia di caccia fotografica ci saranno video anche su microscopi e sull'astronomia insomma sarà un canale dedicato agli appassionati del cielo della natura e dell'ottica a 360 gradi un caro saluto da piergiovanni salimbeni e buone osservazioni e buone fotografie a tutti voi ciao ragazzi grazie a tutti